Il Comune riduce gli orari delle sale slot e il TAR questa volta gli dà ragione. Ricorderete l'ordinanza con cui ad inizio anno il sindaco Riccardo Poletto aveva dato un nuovo giro di vite contro il gioco d'azzardo, imponendo restrizioni alle sale slot e a tutti i locali dotati di apparecchi per il gioco. Immediato è arrivato il ricorso dei titolari e oggi si è avuta notizia della sentenza. Il giudice che doveva esprimere un giudizio sul ricorso all'ordinanza ha scelto la procedura della sentenza semplificata per cui ha rigettato sia la sospensiva sia il giudizio di merito. In sostanza, dice il TAR, il Comune ha ragione. Vuol dire che la nostra scelta era ponderata, si muoveva nell'ambito di quello che è in potere di un sindaco, di ciò che può fare ed era motivata da dati certi forniti dall'azienda sanitaria. E sul fronte della lotta alla ludopatia, sicura il primo cittadino Bassano continuerà su questa strada. Stiamo muovendo come area territoriale in maniera unita e ci muoviamo sia sul fronte della repressione con i regolamenti che fissano distanze minime e con ordinanze che limitano gli orari, ma anche molto con la prevenzione.